Oddio stiamo lì ragazzi, stiamo lì, non ci voglio credere Se vinciamo questa siamo in Legendary Arena Oddio stiamo in Legendary Arena Questa volta ragazzi è tempo di fare la storia Solo 100 coppe ci dividono dall'arena leggendaria Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui Su Clash Royale Bentornati oggi, sono carico perché vivremo insieme questi ultimi attimi da non arena leggendaria Attenzione, Legendary in a pack, Cavaliere, Cavaliere e Scheletrini Le carte che uso di più devo dire, tirami su e poi un nome cinese Non ha senso questa cosa però facciamo finta che lo abbia Attenzione No come si dice, alla scintilla, alla scintilla Maledetto alla scintilla, ecco perché è così alto No mi distrae, oddio che male che fa Oddio guardate il pack Costa anche meno del pack questa roba No non è possibile Ma, ma mi ha shottato tutto Mi ha, mi ha shottato tutto Fate danno miei prodi Fate danno miei prodi Speriamo che non metta di nuovo il gigante E lo stregone Perché, perché non mi da retta X monte, X monte Attenzione Parte subito Arzillo con questo domatore Questa bella principessa che ci piace tanto Come se fosse impossibile trovare qualcuno senza la leggendaria Come se Clash Royale non volesse farmi pesare il fatto che io non ho ancora trovato la leggendaria Mettiamo il pack, mettiamo il pack Attenzione Il trio di moschettieri e poi se si carica in tempo le frecce Vai, attacchiamo Ce li congela ma metterà sicuramente qualcosa Metterà sicuramente, eccolo Veloci, scongela Guardate quanta roba congelante ha mezzo Fate danno però, fate danno Vi prego Vi prego, shotta Colpisci il drago Colpisci il drago Perché il moschettiere, il drago Il drago Ok, prima torre andata Più 35 Ottimo, ottimo Ok Va tutto bene? Non va tutto bene perché ci ha fatto una formazione d'attacco assurda e devastante No, precisa la torre, precisa Quindi correremmo un rischio enorme se mettessimo i moschettieri Li mettiamo Sperando che non ci bersagli, ecco Oh, non ci credo, non ci credo Prendiamo la torre La prendiamo, la prendiamo Oh, cavolo, l'ho messo troppo vicino Cavolo, grazie Grazie Meno 39 trofei Cosa ho visto? Meno 39 Il trio di moschettieri Mettiamo il trio Mettiamo il trio Mettiamo il trio Bellissima mossa questa Bellissima mossa devo dire Bellissima mossa Totalmente casuale Ma lui ha messo la Palla di fuoco contemporaneamente Quindi abbiamo fatto Una mossa davvero Bellissima Andiamo a prenderci la torre Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Veloce Subito Rapido, rapido Il tempo Rapido, rapido, rapido Perfetto Andiamo a vincere Quante leggendari avete? Ma quante Due proprio Due all'inizio Me le piazza così Due bellissime leggendari Me le mette Ok guardate però Il trio di moschettieri Come a nienta Guardate il trio di moschettieri Come a nienta Vai avanziamo Non ci credo Non ci credo Avanziamo Vediamo se il pecca arriva Da una spadata Sì da una spadata Grandissimo pecca Stima totale Voglio 100 like Per il pecca Sì Ha fatto Un'azione Un'acrobazia Davvero epica Quindi se lo merita Ragazzi Se lo merita 100 like Solo per il pecca Che questa volta Non è stato stupido Come al solito Invece Win easy Ragazzi Win easy Si avvicina Si avvicina La leggenda L'arena Mancano solo 80 coppe L'estrattore al 7 Barbari al 10 Addirittura Abbiamo i barbari Al 10 ragazzi I moschettieri Con uno di vita I moschettieri Con uno di vita Oddio godo Oddio godo Vediamo se questo drago Fa il bravo Oddio Che rect Si mette in diagonale Non viene colpito Da nessuna torre No 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 Proteggi Proteggi Mettiamo il trio Di moschettieri Di qua Mettiamolo Mettiamolo Vediamo se si difende Goblin qui No no Credo che ce l'abbia fatta Credo che ce l'abbia fatta Vediamo però il trio Il trio di la distrugge Lui mi distrugge una torre Ma il trio Dall'altra parte È riuscito A distruggere L'altra torre Quindi nulla da fare Vittoria E si sale ragazzi E si sale Meno 50 coppie Quindi dobbiamo mettere i barbari Vediamo Non dovrebbe avere la Fireball Proviamo Proviamo a far andare In porto almeno il pecca Noo È nostra È nostra È nostra È nostra È nostra Perché questa sfortuna Perché Pareggio Pareggio Secondo me Secondo me Se io facevo vedere il deck A una persona E gli chiedevo Fatti l'anti deck Non lo faceva così bene Secondo me Ma il pecca Il pecca trolla tutti E va dall'altro lato Ha fatto una cosa bellissima Ha fatto il pecca Ha riscritto gli annali Di storia del Del gaming Siamo i barbari qui No Cosa ha fatto Oddio Cosa ha fatto Maledetto Ma cosa Ha fatto la stessa mossa Del tizio di prima Con la palla di fuoco Che l'ha messa malissimo Tra l'altro Oddio L'ha fatto la stessa Ace Wizard E Barbarine 1677 HP ci dividono Dalla vittoria È vinta È vinta È vinta È vinta Trio di moschettieri Trio 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 di moschettieri 8 8 8 No Il royal Il royal Il Pecca 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 Sì Sì Pecca Spero che Spero Spero che abbiate messo Il like Per il pecca Perché ci ha fatto guadagnare 30 coppie Oddio Stiamo lì ragazzi Stiamo lì Non ci voglio credere Se vinciamo questa Siamo in leggendari arena Se la vinciamo Siamo in leggendari arena Non voglio crederci Ragazzi Una sola partita Ci divide Dall'arena Leggendaria Il mouse Mi trema Ragazzi Il mouse Mi trema Mettiamo i goblin Qui per distrarre Un po' tutti Distraiamo Mettiamo i barbari Qui in modo tale Che ce li ha niente La valkyria Bene Tutto Il tempo Impiegato a giocare A clash Royale Tutti i mesi Sono concentrati In questo momento E hai fatto una cavolata Stupido Ale Il pecca è morto Il pecca è morto Il pecca ma non 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 questa valkyria Non ora Non ora Non ora Non ora Trio di moschettiere Trio 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 Strancire La nostra vittoria O la nostra sconfitta Il minuto decisivo Ragazzi Oddio Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Vai Drago 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 Vai Vai con il trio Vai con il trio Sono emozionato No Barrichiamo qui con Estrattore di lisir Questo domatore Lo voglio ucciso Lo voglio ucciso Questo domatore Lo voglio ucciso Voglio vedere la carne a brandelli Attenzione Ha speso un po' di lisir Per attaccare E adesso Passiamo al contrattacco Passiamo al contrattacco Il pecca Il pecca Il trio Il trio Il trio Il trio Vai il trio Vai il trio Manca No ma come ha fatto Ad annientarci così Il trio Cosa mi ha fatto Come Voglio sapere come Adesso ha questa valkyrie Ha questa valkyrie Ha questa cavolo di valkyrie I barbari I barbari I barbari Corri I barbari No 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 33 Vai continuiamo A una partita Oddio Siamo in leggenda re arena Siamo in leggenda re arena Oddio 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 Ci siamo però A livello 10 Che ci farà il culo E che ci farà retrocede Benissimo Che poi lui non è in leggenda re arena Perché è a 2977 Io non lo so in leggenda re arena Perché mi abbina in leggenda re arena Non si sa Però siamo contenti Perché almeno ci siamo arrivati Abbiamo perso male All'ultima partita Ma almeno Ma almeno Dai Di lusso Di lusso Uno No ok Finita Pareggio Anche questo è contento Non si sa perché Livello 10 Non è possibile Una roba del genere A questo punto abbiamo perso ragazzi Cioè non c'è niente da fare Quando ti abbinavo Una persona più forte Guarda Cioè In differenza di due livelli Quindi ragazzi Visto che la supercell Ci ha iniziato ad abbinare Con gente disumana Dobbiamo chiudere qui La prima parte Della scalata Alla leggenda re arena 69 Attenzione 69 Trofei Alla leggenda re Mi appresterò a far uscire Prima possibile La seconda parte Quindi contateci Mi raccomando Iscrivetevi Che tra poco esce Ve lo promettissimo Ve lo promettissimo Noi ci vediamo Come al solito Al prossimo video Un salutone leggendari A tutti ragazzi I'm not somebody's problem I'm not somebody's fear But I can tell you VMe I'm not somebody's fear You just want to know